Grazie a tutti 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 Ecco adesso che ho con foto degli alberi e non delle case per evitare i brucii è un rumore di fondo del vento che ti copre tutto ecco dove servono i tuoi obiettivi ecco dove servono i tuoi obiettivi ecco dove servono i tuoi obiettivi e questo è il tuo obiettivi io non ho dietro ma non devo cambiare niente e questo è il tuo obiettivi no c'è un po' grand'angolo mi ricordo ci potrebbe morire? ci potrebbe morire? no c'è un po' grand'angolo no c'è un po' grande grazie a tutti 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 grazie a tutti